Le procure di Escoli e Teramo hanno negato il nulla osta per il funerale di Carmela Melagnarea. La salma della donna di 29 anni, scomparsa il 18 aprile scorso da Colle San Marco, avrebbe dovuto essere trasferita lunedì dall'obitorio dell'ospedale di Teramo a Somma Vesuviana, dove per martedì prossimo erano state fissate le esequie. Il provvedimento è conseguenza dei ritrovamenti avvenuti sabato pomeriggio nel Bosco delle Casermette, dove il 20 aprile era stato rinvenuto il corpo di Melagna, uccisa con 35 coltellate. Altri esami sul cadavere si sono resi necessari alla luce delle novità del sopralluogo. Nel Bosco Montano di Ripe di Civitella, infatti, sono stati trovati un orecchino, la catenina e un laccio emostatico. Alcuni segni sono stati rinvenuti nei pressi del chiosco o a Casermette, ma tutti questi elementi non possono al momento determinare il luogo dove la donna è stata uccisa e quindi la competenza territoriale dell'inchiesta, almeno stando a quanto emerge da fonti, investigative, sul fronte teramano. L'intera area del Bosco delle Casermette, che si trova a circa 10 chilometri dal luogo in cui la donna scomparve, è stata posta sotto sequestro. Dalle indiscrezioni che emergono è possibile che Melagna abbia lottato proprio a Ripe con il suo assassino prima di essere uccisa con un fendente alla gola, ma sono ipotesi ancora da confermare. Venerdì scorso, fino a tardanotte, era stato sentito dai PM di Ascoli e Teramo, il marito della vittima, Salvatore Parolisi, caporal maggiore dell'esercito, l'ultimo ad aver visto la moglie viva. Al momento comunque non ci sono ancora persone iscritte nel registro degli indagati.